Allora salve Oggi un altro vlog come vedete Ormai faccio sempre vlog ultimamente Fai il canale solo per i vlog Esatto Comunque è giorno diciamo un po' Speciale Da un altro lato perché Andiamo a farci un tatuato Anzi io due, lei uno si fa il secondo Io faccio il sesto e il settimo Esatto quindi stiamo andando Dal tatuatore sulle nove e un quarto Quindi ci vediamo non appena Insomma è all'opera Bene siamo arrivati E c'è nebbia ancora di più di casa mia Non mi ricordo Quindi dicevano dire l'entrata del posto insomma Del tatuatore Esatto E questo è il primo Devo E questo è il primo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci ha fatto neanche pagare il secondo tatuaggio a nessuna delle due, quindi top c'è andata. Quindi direi che adesso andiamo a casa, lei va al lavoro e ci rivediamo stasera. Ciao. Bye bye. Stasera andrò ad un evento molto speciale che fanno appunto vicino a casa mia. Esattamente 10 minuti di macchina da casa mia. In un teatro che di solito fanno concerti c'è questa specie di festa che fanno ogni anno a marzo che si chiama Irlanda in festa. Praticamente ci sono tutte cose irlandese, è una cosa fighissima. e quindi ci vado insieme a Lada, la Nadia e la Gloria, poi li troveremo altre nostre amiche. Come vedete siamo arrivati a casa sua, infatti è un ambiente nuovo nel mio video. Abbiamo cambiato location finalmente. Sono le 9.25 più o meno e stiamo aspettando il quarto membro della gang, che è la Nadia. Una delle tante gang. La squadra. Esatto, la squadra. La squadra. La squadra. La squadra. Esatto. E come vedete diamo le nostre... Come si dice? Brown of powers. Bravo, all'inglese. Ecco. Stasera dobbiamo fingerci dell'inglese. Irlandesi. Irlandesi. No, ma non siamo rosse però. Siamo pronte, siamo aspettando. Vediamo l'ora di andare perché come vi ho detto prima è un evento strafigo secondo me. Sì, vedrete. E dobbiamo anche noi povere italiane sfigate festeggiare questo giorno internazionale. Cioè il St. Patrick's dobbiamo. Quindi ci vediamo quando siamo in macchina, quando siamo arrivati. Esatto. Ciao. Anna sai che sono andata su Le Giosti. Esatto. Ma non è questo il Giosti? Sì, ma un shoto. No, ma non è stato qua. Anche perché... Ma ci sono anche le gioste. Mora disse qualcosa, ok. Dopo aver несколько. Ma... Siamo arrivati. Siamo arrivati. E adesso facciamo la stupenda subita che c'è all'entrata. Ci guardano. Ok, la st 1996. Ok basta, no. Stavamo facendo una sigla di pomosCE. Emame esatto. E quindi adesso entriamo E anche se la Ele vuole fare le foto Cioè le giostre Adesso vi vorremmo vedere anche sì le giostre E tutti i bancarelle, le bancarelle che vedete no A quest'ora? A te? C'è un po' di zlup, no? Non c'era zlup Oggi Come va bene? Adiós